Siamo in pari a Marco Marcialli su Bomber del San Rolese, questa partita che avrà il mio e il mio, Marco, uno Bomber, due gol ha fatto? Una bella partita, ho una sorrata di gente, ho prenduto gente, bella vedere la manifestazione come Saicci, ha provato due gol, però è tutta questa squadra che tenge un palla, che mi si chiede, a me è accaciuto e c'è una possibilità di arrivare sempre a questa volta. Tu sei uno non reso in pianta o in orroli? E sei il sitolo in modo? Io sei uno non reso e è strano pure che uno non reso in orroli sia da impianta Aicci, però di subito mi hanno fatto recuperare come ti fa San Bidda, è una cosa troppo bella. Marco Marcialli, giocatore ai palloni, Marco Marcialli in Savirarua, su ai Tavairi, un po' bifo. Un po' bifo, sono in gioco con i distributori di benzina, in urri, faccio una sorrata di orario un'unica, andavo a capo un'unica, sempre in suo campo, sempre in suo campo, sempre in suo campo. Uno sacrificio, tu giocati da un anno, contesi che hai una cosa di questa carriera, hai giocato in una ruoli? Questa carriera mia è praticamente differenziata in qualche squadra, ho cominciato in Bidda Noa, in Bidda Noa e solo, ho fatto sette anni su Goni, in cui pure mi si occupava sui Bitueni, poi sono passato in una ruoli che ho preso solo, ho molti fatti di lavoro sempre, in noi pure mi hanno trattato del reso. Gitu Bitu, in noi c'è una vascia di capitano, in te questa cosa, questa cosa è preziosa, un'espanto da vivere in suo braccio tu, no? Per me è un onore tenere questa vascia, specialmente in una ruoli, accanto a un misto di Montadottos e spero di seguire lì, di fare il braccio a questa gente e di avere una sorrata di gente a questa partita. Grazie per la visione!